cari telespettatori continuiamo con la serie delle interviste di qualità che sono partite devo dire davvero molto bene con un ospite graditissimo che conoscete che è il professor marcello signorelli che è direttore del dipartimento di economia dell'università degli studi di perugia da circa due anni oltre che pregiatissimo ordinario oltre che il suo manuale insieme a quello di un suo collega è il più utilizzato manuale politica economica è utilizzato nelle università italiane insomma il più utilizzato quindi insomma abbiamo presentato tante volte per cui ometto tutta una serie diciamo di corso sonora professore io volevo andare subito su due argomenti diciamo una prima parte vorrei un pochettino parlare del dipartimento di economia delle novità che lo riguardano e come va insomma il progetto che lei aveva presentato quando si è candidato insomma poco meno di due anni fa la seconda parte mi piacerebbe qualche spunto proprio insomma da macro economista di pregio qual è su un po' la situazione sia del bilancio pubblici italiano ma anche europei che sembrano entrati in una fase di ristrettezza dopo anni di allargamenti covid di sfondamenti e poi questa inizio di rientro dei tassi di interessi che la bc ha iniziato che sembra che possa proseguire anche nella riunione di ottobre alla professore quali sono le novità al dipartimento di economia allora intanto è un piacere anche per me risentirci perché siamo anche amici da tanti anni e mi fa mi fa piacere insomma che sei ritornato in brillante forma insomma in campo quindi l'ho già introdotta nella prima cosa dopo un'assenza di tre mesi non dipendente di me ma da un batterio che mi ha aggredito quindi questa è una cosa importante allora a livello di dipartimento devo dire io personalmente sono soddisfatto perché alcune cose siamo riusciti a fare quali in particolare riformare i corsi di laurea che erano fermi da alcuni da diversi anni in che direzione intanto il triennio è diventato perché abbiamo completato tutti i passaggi quindi già gli iscritti attuali del triennio di economia aziendale della sede di perugia si iscrivono a un triennio che è interplasse quindi non solo della classe delle scienze economiche aziendali ma anche delle scienze economiche questo è importante perché aumenta i percorsi da tre a cinque percorsi e consentono allo studente alla fine del triennio di scegliere su quale classe di laurea completare il percorso anche alla luce degli diciamo del proseguimento su una magistrale che può essere qui a perugia oppure altrove questo è importante perché consente appunto di ampliare le possibilità degli studenti senza sminuire dei contenuti comunque importanti che già c'erano nella triennale precedente ma le novità per certi versi più importante le abbiamo apportate sulle magistrali che qua sulla sede di perugia ne abbiamo tre oramai hanno in tutte e tre un percorso quindi un curriculum ognuna delle tre interamente in inglese e poi ne hanno altri in italiano questo è importante perché ci sta consentendo perché in questi giorni abbiamo anche oggi abbiamo avuto addirittura 42 professori di varie università prevalentemente europee non solo europee e con con i quali avviare un percorso operativo per realizzare doppi titoli quindi la possibilità che lo studente iscritto alle magistrali della nostra sede di perugia possa trascorrere un periodo di un anno anche di sei mesi presso l'università europea e conseguire sia la laurea magistrale presso il dipartimento di economia dell'università di perugia che il master degree presso l'università estera ovviamente anche studenti presso l'università diciamo non di perugia estere possono venire per un anno per sei mesi presso la nostra sede chiaro che c'è un aspetto operativo di realizzazione anche pratica di questo accordo e però il futuro sono aumentare le possibilità anche sul fronte dell'esperienza estere degli studenti per riuscire non solo a trattenere un numero maggiore e anche qualitativamente migliore di nostri laureati triennali ma andare a attrarre laureati triennali perso presso altre università che vogliono conseguire la laurea magistrale una delle tre sulle sede di perugia presso l'università di perugia il dipartimento di economia ma con la prospettiva concreta di trascorrere un anno sei mesi presso un'università europea e conseguire quindi questo doppio titolo questa è una novità interessante che questa prima international week che devo dire ha avuto un successo di adesione oltre le aspettative costituisce un aspetto operativo concreto per portare in porto questo questo obiettivo naturalmente la riforma dei corsi di laurea era partita anche in maniera molto repentina su assisi no dove in realtà è stato successo però è stato successo però anzi era al di là di quello che forse si poteva prevedere questo rilancio andati lì lì abbiamo dato una caratterizzazione più sul management e più con sul contatto col mondo del turismo delle imprese dei professionisti che lavorano nel settore quindi collaboratori c'è il nuovo presidente di corso che è molto attivo molto dinamico adesso abbiamo avuto anche un finanziamento della fondazione su un progetto di laboratorio di digitalizzazione che tra l'altro dà valore anche a un contributo della famiglia pian piano di un nostro laureato e che avvia diciamo ha voluto si avviasse questo laboratorio appunto di combinazione di aspetti digitali di turismo insomma lì si va a innovare perché nelle sedi decentrate comunque più piccole occorre dare un di più di servizi di iniziative di eventi di possibilità di opportunità occupazionali agli studenti altrimenti le città di dimensione più piccola risultano per i giovani meno attrattive naturalmente noi giovani tendono a preferire a stare dove ci sono tanti altri giovani che studiano per varie ragioni diciamo anche di socialità maggiore così via quindi su perugia e su assisi siamo diciamo sono abbastanza soddisfatto degli sviluppi sono stati poi dei miglioramenti ulteriori si possono sempre fare sulla sede di terni dove c'è un triennio magistrale anche lì dobbiamo ragionare come fare sviluppare ulteriormente sia i contenuti e altri aspetti didattici che ripeto anche su terni continuano a essere soprattutto sulla magistrale almeno in parte in sofferenza poi naturalmente come dipartimento abbiamo anche due dottorati di ricerca quindi abbiamo in termini di accordi con università straniere quasi 300 accordi erasmus però questo esperienze erasmus che sono importantissime le dobbiamo accrescere come dicevo prima con la questione dei doppi titoli quindi queste opportunità ulteriori sono importanti naturalmente non c'è solo la didattica in un dipartimento quindi questo è così quando hai indicato per far capire agli spettatori il doppio titolo che intende facendo un esempio concreto c'è uno studente di perù che è iscritto all'università di perugia sì ad esempio attualmente già abbiamo con una delle università di parigi un doppio titolo quindi chi si iscrive a perugia una magistrale e ha la possibilità di trascorrere in questo caso sei mesi talvolta si può prevedere un anno dei due della magistrale presso l'università di parigi e sostenere gli esami lì previsti ovviamente sulla base di un accordo che ha dei dettagli no di parziale sovrapposizione dei contenuti formativi e a quel punto alla fine del percorso sia perugia che a parigi nel caso specifico lo studente discute la tesi conseguendo sia la laurea magistrale qui a perugia che il master degree nel caso di questione presso questa università di parigi è chiaro anche per le famiglie insomma è un di più oltre che formale anche di esperienza non brevissima o breve come diciamo un'esperienza erasmus è un qualcosa di più lungo che può arrivare a un anno dei due delle magistrali chiarissimo chiarissimo bene professore c'era qualche cosa il quadro sì no i dipartimenti non sono ovviamente solo didattica no c'è la ricerca scientifica ora novembre inizio novembre faremo il secondo workshop di dipartimento perché oltre a convegni internazionali a cui partecipiamo e che organizziamo anche in dipartimento serve anche una riflessione tra i ricercatori docenti del dipartimento quindi far vedere quali sono le linee che si stanno sviluppando questo per sospingere tutti anche quelli che magari le varie ragioni fanno un po' meno ricerca un po' meno ricerca di qualità a un supplemento di impegno su quella direzione perché i docenti universitari sono anche ricercatori universitari quindi devono produrre scientificamente a livelli adeguati poi c'è tutta la questione della terza missione quindi del rapporto con il resto del mondo che poi come tutti e anche noi accademici dovremmo avere sempre più consapevolezza e il 95 il 98 per cento della realtà quindi ci dobbiamo fare i conti devo dire che su quel versante anche con dico l'aspetto più recente con cna abbiamo contribuito a realizzare una guida alla sostenibilità si è presentata recentemente si è presentata recentemente abbiamo fatto un percorso anche con l'agenzia delle dogane di una formazione appunto di competenze specifiche per professionisti che aiutano l'impresa nei rapporti con l'estero insomma ci sono anche anche questi aspetti di collaborazione questo per quanto riguarda la terza missione i rapporti con il resto sulla ricerca scientifica si concluderà adesso a fine anno il periodo di vqr cosiddetta di valutazione della qualità della ricerca dovremmo inviare i nostri prodotti scientifici quindi sarà importante anche su quel versante fare selezioni adeguate per riuscire ad avere dei giudizi al massimo del possibile perché una parte dell'FFO il fondo di finanziamento ordinario che arriva è legato anche a questa qualità scientifica questo aspetto delle risorse e per le università in genere è ricaduta anche per i dipartimenti purtroppo per scelte che anche questo governo sta realizzando saranno sempre più diciamo difficili insomma le risorse notoriamente i governi naturalmente e anche questo non fa eccezione hanno tante priorità normalmente l'università sta in fondo alle priorità dovrebbe stare un po' prima perché proprio a parole si dice nei fatti quando le risorse stanno ritornando ad essere anche nei bilanci pubblici poi ci arriveremo a essere ancora più stringenti del solito e va a finire che le università finiscono ad essere penalizzate e ad esempio quanto distribuito sull'FFO quest'anno penalizza fortemente l'università italiana non solo l'università di Perugia tante università che quindi dovranno fare i conti anche nei prossimi anni presumo con risorse sempre più limitate rispetto ai tanti obiettivi che abbiamo e quindi utilizzarla al meglio del possibile diventa fondamentale ma anche capire meglio come riuscire ad attrarre più risorse tramite l'FFO che è il canale principale e tramite anche i rapporti con il resto del mondo Allora professore grazie il quadro è molto sintetico ma è molto esauriente ovviamente sintetico perché abbiamo dei tempi contingentati Allora professore apriamo l'altro capitolo e l'ha un po' introdotto già con questa ultima parte dell'intervento cioè finita la stagione diciamo così dei bilanci larghi dove si poteva anche a ragione per sostenere le economie, il covid, le famiglie eccetera si ritornano a criteri più stringenti diciamo così dei bilanci pubblici Ecco l'Italia come se la passa da questo punto di vista insomma quello che si è capito adesso al di là del giorno per giorno insomma la manovra attuale quest'anno sarà piuttosto magra cioè che aspettative devono farsi i cittadini per i prossimi anni perché poi se no tutti gli promettono ma poi dopo Eh sì, allora le promesse diciamo sono sempre tante Allora mettiamola così partendo dal livello europeo Allora come è noto la recessione pandemica io analizziamo gli aspetti macroeconomici non quelli su altri versanti La recessione pandemica è meno male è stata come emergenza di recessione gestita decisamente meglio dalla Banca Centrale Europea dalle stesse istituzioni europee che hanno deciso con il Next Generation EU addirittura di emettere debito comune europeo La prima volta no credo La prima volta per queste dimensioni eccetera comunque è una scelta diciamo che ha voluto dare un segnale tant'è che macroeconomicamente nonostante la recessione pandemica fosse stata peggiore cioè più grave della recessione del 2009 cioè la cosiddetta grande recessione durante e dopo la recessione pandemica non ci sono state crisi sui debiti pubblici dei vari stati così come invece era avvenuto da fine 2009 per diversi anni per la Grecia ma poi anche l'Irlanda, Portogallo e Cipro non avevano avuto accesso al mercato cioè non riuscivano più a vendere i propri titoli di debito pubblico questo non è un problema da poco perché vuol dire non riuscire a coprire l'accesso di spesa pubblica rispetto alle entrate ma non solo avere impossibilità di rimborsare i titoli di debito pubblico emessi in precedenza che con lo scorrere del tempo giungono a scadenza quindi quelle situazioni veramente gravi non si sono avute perché in sintesi l'aspetto più importante è stato il fatto che la Banca Centrale Europea da marzo 2020 a giugno 2022 ha acquistato sì sul mercato secondario ma l'intero, addirittura un po' di più dell'intero incremento dei debiti pubblici nazionali dei paesi dell'eurozona quindi questo ha stabilizzato i mercati e poi anche con lo scudo antispread tecnicamente il transmission protection instrument la Banca Centrale Europea diciamo per certi versi si è riappropriata di pressoché tutti gli strumenti che nessuna banca centrale in giro per il mondo aveva mai ipotizzato di limitarsi perché la BCE come sai benissimo Giuseppe era nata con una visione molto conservativa immaginando che la macroeconomia i sistemi fossero abbastanza stabili ma questa visione conservativa quindi di ridotto intervento ha senso in tempi normali in tempi di crisi è un disastro in tempi di crisi le banche centrale devono intervenire quindi nelle situazioni di emergenza le situazioni europee hanno dato prova meno male di reagire decisamente meglio rispetto a dopo il 2009 il problema sorge nei contesti di normalità normalità sempre relativa in cui siamo tornati perché lo stesso rapporto Draghi evidenzia quello che è un dato che può non piacere ma di tendenza degli ultimi decenni per cui l'Unione Europea il vecchio continente in generale arretra ormai da alcuni decenni rispetto ad altre aree del mondo la Cina ma anche altri paesi lì il confronto nel rapporto Draghi è fatto soprattutto tra Unione Europea Cina e Stati Uniti e lì si punta molto l'attenzione anche sulla diversità sulla capacità di realizzare politiche industriali efficaci che la Cina sta facendo da decenni su vasta scala eccetera eccetera insomma questi aspetti di dimensione globale rischiano di schiacciare l'Unione Europea che non riesce ulteriormente ad evolvere su un livello di integrazione sia con un bilancio centralizzato di dimensioni maggiori e magari stabile non temporaneo come il Next Generation EU e su un livello di condivisione seppur di tipo federale più avanzato quindi i singoli stati per varie ragioni rimangono diciamo gelosamente custodi della propria sovranità senza voler delegare un periodo questo è un aspetto di indebolezza nel contesto globale le regole è vero sono tornate in vigore come noto sono state sospese in pratica da marzo 2020 fino alla fine dell'anno scorso solo negli ultimi mesi sono rientrate modificate in vigore e rimangono contesti anche in Italia di crescita economica che dopo il balzo il rimbalzo post pandemico ritorniamo sullo 0, sempre sotto all'1% quindi su dimensioni piccole e ci sono aspetti distributivi che non sono nel frattempo migliorati quindi la percentuale non solo di persone ma di famiglie che sono in difficoltà di povertà assoluto grave non è andata migliorando ed ormai questo è un fenomeno che va avanti da molti anni quindi il dato aggregato sulla crescita economica spesso è basso quindi non particolarmente entusiasmante nasconde una dinamica distributiva ancora più grave che quindi suggerisce necessità ulteriori di intervento che ripeto sono sempre vincolate da risorse che non sono illimitate non lo sono state neanche durante la recessione pandemica anche se lì le regole sono state sospese gli stati hanno fatto comunque deficit molto elevati resi sostenibili dagli interventi della banca centraeuropea nel contesto dell'eurozona chiarissimo non è che c'è tanta trippa per gatti per sintetizzare almeno per i prossimi anni speriamo della crescita lo stesso Draghi non per citarlo ma lo sto facendo un paio di volte suggeriva che servono ulteriori risorse pubbliche che difficilmente riescono a trovarsi sui bilanci nazionali servirebbe a un livello europeo se la consapevolezza del declino in atto da tempo del vecchio continente rispetto al resto del mondo fosse maggiore anche a livello dei politici nazionali si dovrebbe andare in quella direzione quindi una direzione che va a cercare di difendere non solo economicamente e quindi anche il welfare del contesto europeo che è quello più avanzato ma anche il peso politico dell'Unione Europea e anche quello culturale che poi sono tutti aspetti che in qualche modo sono legati benissimo è stato chiarissimo anche quest'ultimo messaggio che insomma non siamo nonostante i confronti dal 2000 in poi impietosi tra l'Unione Europea la Cina e gli Stati Uniti termini di crescita non è come avrebbe detto il vecchio Saragat un destino cinico e baro è un po' il destino che dipende da noi io speravo lo dico e chiudiamo che non era questo che di fronte anche a questa situazione di difficoltà le guerre eccetera l'Europa trovasse come ha fatto spesso nelle crisi un motivo di un balzo in avanti nell'integrazione però mi sembra che il clima che stia girando in Europa non vada troppo in questa direzione chiudiamola se no entriamo in altri campi non ci sta andando non abbiamo accennato per nulla alle stabilità geopolitiche guerre che ci circondano sempre più quello è veramente lo scenario per molti aspetti più preoccupante più preoccupante che dovrebbe darci anche una consapevolezza maggiore che da soli i piccoli stati prima o poi diventiamo dei sudditi di qualcuno perdendo anche la nostra libertà in qualche maniera è una situazione questa dell'instabilità che ci sta già da qualche anno condizionando pesantemente anche economicamente e sui bilanci degli stati quindi riuscire a portare su una dinamica che sembra incredibile che non sia possibile un'altra cosa professore andando in conclusione perché ci manca veramente poco i tassi di interesse in questa cosa però per due anni circa i tassi di interesse sono aumentati dieci aumenti mi sembra consecutivi e abituati ormai che il denaro non costava più niente è stato un mezzo shock che poi se si va a guardare alla fine sono arrivati al 4 qualcosa non è che erano cifre però insomma e se si considera l'inflazione per lungo tempo i tassi sono stati comunque negativi i tassi reali adesso no ma finché l'inflazione è stata un po' alta piuttosto alta poi un po' alta ecco è iniziata però una fase di disgelo la Banca Centrale Europea ha fatto già due riduzioni di un quarto di punto riduzione complessiva di mezzo punto la Fed americana ha fatto una riduzione secca ma colposa di mezzo punto forse sembra quasi scontato ormai da quello scontato non è mai niente però insomma dalle dichiarazioni che nella riunione sembra del 17 ottobre ci sarà un ulteriore da parte della Banca Centrale Europea riduzione di 0,25 punti portando il taglio complessivo a 0,75 0,50 di prima più 0,25 ovviamente io ho sempre saputo che quando si abbassano i tassi di interesse lo Stato rispira pagherà non subito ma quanto meno meno interessi e l'economia avendo del denaro un po' più al mercato dovrebbe avere un beneficio sarà così? parte nel senso che chiaramente l'impatto della riduzione dei tassi sui tassi di interesse sui titoli di Stato si distribuisce nel tempo quindi le emissioni precedenti a tassi fisso non è che lo rubiamo domattina insomma quindi no questo non è immediato sul fronte dell'impatto sulle famiglie che hanno mutui specialmente tasso variabile ma anche tasso fisso chiaramente anche lì ci potrà essere con qualche effetto sia pur gradualmente peraltro con gli aumenti iniziali che ci sono appunto che sono partiti un paio di anni fa e lì è stato anche per diverse famiglie soprattutto che avevano mutui a tasso variabile un impatto di costi non banale che ha messo anche in difficoltà una serie di famiglie quindi gli effetti reali di queste decisioni sono molto più graduali delle enfasi che talvolta vengono date a queste decisioni peraltro detto in estrema sintesi nella fase di aumento dei tassi di interesse la BCE ha in qualche modo seguito la Federal Reserve ma in contesti macroeconomici piuttosto diversi perché mentre nel contesto dell'eurozona l'inflazione è stata soprattutto da costi soprattutto dell'energia di alcune materie prime specialmente in una prima fase che poi si è trascinata invece negli Stati Uniti c'era più un'inflazione anche da consumi cioè da crescita quindi gli aumenti della BCE sono stati meno giustificabili rispetto a quelli della Federal Reserve certamente in termini di efficacia sulla frenata dell'economia c'è stato quindi si è andati a contrastare un'inflazione da costi con una deflazione da domanda quindi andando a aumentare i tassi quindi riducendo i consumi e altre dinamiche dal lato della domanda quindi la BCE non ha gestito benissimo a mio avviso quella fase che poteva essere anche più graduale visto il diverso contesto ora si sta andando in una direzione diversa e spero che ci si vada con una buona velocità peraltro ripeto ancora una parte rilevante delle dinamiche reali dipendono da altri fattori le politiche industriali che dovrebbero essere gestite a livello europeo su cui Cina e in maniera diversa anche gli Stati Uniti fondano una parte non piccola della loro crescita a livello europeo di fatto non si stanno facendo soprattutto in maniera adeguata perché vanno valutati spesso anche con strumenti sofisticati cito solo i modelli multisettoriali che a mio avviso rimangono importanti come strumento di supporto tecnico degli economisti alle decisioni politiche per capire anche come fare anche queste transizioni giustissime verso una sostenibilità maggiore però vanno valutate accuratamente nel loro rispetto anche in termini di import export legami tra i settori produttivi per capire quanto queste transizioni ci costano nella realtà concreta e nello scenario globale per non portare non solo l'Italia ma l'Unione Europea nel suo complesso a un ulteriore addirittura magari chissà accelerato arretramento di peso economico rispetto alla Cina o ai paesi emergenti e agli Stati Uniti Proprio lei così concludiamo aveva fornito l'anno scorso credo in un'intervista che le facemmo una tabella che evidenziava il peso del PIL mi sembra in 30 anni era impressionante ricordo il dato italiano l'Italia pesava il 4% del PIL mondiale eravamo ridotti sotto il 2 1,9 qualcosa gli stessi Stati Uniti comunque hanno avuto perché la crescita della Cina e dell'Est in generale ma in particolare la Cina è stata fortissima una tabella di grande impatto forse ci dovremmo tornare a parità di potere d'acquisto in 40 anni la Cina è passata dal 3% al 19% quindi più o meno gli Stati Uniti quanto hanno poco su quel 20% mi sembra allora sempre a parità di potere d'acquisto siamo su 15% quindi la Cina è già prima da diversi anni se invece non si fa questa correzione per il diverso livello dei prezzi ancora gli Stati Uniti rimangono la prima bene professore io non so come ringraziarla è stato come al solito chiarissimo avverto i telespettatori che noi questi due temi col professore continueremo a seguirli il primo sarà l'Università di Perugia ovviamente per le tematiche riguardo il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia quindi eventuali evoluzioni novità insomma ne daremo conto attentamente l'altro sarà un occhio ovviamente alla macroeconomia insomma e alla politica economica grazie mille professor Marcello Signorelli direttore del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia grazie a presto